Quindi la massima ombra della bottiglia, propria della bottiglia, è questa. Dietro, in questa zona qui, al massimo ci arriva luce riflessa, quella luce riflessa qui, per quanto sia chiara, non è mai chiara come questa, neanche come questa. Se io prendo questo qui e questo qui, e li isolo, lo vedi? Se li isoli, guarda quanto è scuro questo, non te l'aspetteresti mai. No, così scuro no. Avevo visto che c'è una variazione, ma è notevole la differenza. Ok, quindi ne devi tener conto. Questo è tutto molto chiaro, molto chiaro, molto chiaro, e poi a un certo punto cambia drammaticamente. Lo vedi? Si vede? Perché noi tendiamo a fare dei chiaroscuri lineari, per cui questa zona qui tendiamo a farla troppo scura. Il chiaroscuro non si muove, come dire, in questa maniera, in maniera lineare. Il chiaroscuro si muove in maniera, in questa maniera qui. Quindi il passaggio non è... C'è presente quelle scale che si fanno fare per imparare a graduare? No, quelle scalette che uno fa, dice, ah, qui l'ho più scuro. Vabbè, quella che c'è... Vabbè, quella che si stariva la verità Grazie a tutti.